La Juventus Under-23 nacque all'indomani della clamorosa eliminazione dell'Italia dal Mondiale di Russia. I dirigenti federali decisero di reintrodurre le squadre B dopo la cancellazione del campionato De Martino nel 1976. Juventus è tuttora l'unica in Italia ad usufruire di questo cambio regolamentare, con l'introduzione appunto di una squadra Under-23 solo nel nome. Tanti giovani come ad esempio Frabotta e Fagioli già nel giro della prima squadra e qualche elemento di esperienza come ad esempio Brighenti e Troiano. Nel Palmares, nonostante i pochi anni di attività, una Coppa Italia di Serie C, ma anche tanti elementi già balzati agli onori delle cronache, per una formazione ricca di qualità e vero oggetto misterioso del campionato. la Coppa Italia dovrà stare molto ma molto attenta.